Archiviato il deludente pari interno contro il fanalino di coda paganese, la Sicula Leonzi è tornata a lavorare nella giornata di martedì per preparare la prossima sfida con il Rende. In vista della sfida, il biancorossi è intervenuto sui canali ufficiali del club lentinese il centrocampista Sonny D'Angelo, che ha commentato il momento della squadra allenata da Vincenzo Torrente, non nascondendo come il pari contro i campani rappresenti un'occasione perduta, e proiettandosi però alle ultime nove gare di campionato. Stiamo bene, è un buon periodo, ci stiamo allenando alla grande, il mister è contento, noi anche, ora prepariamo la partita di domenica al meglio, come sempre. Io l'ho rivista la partita, abbiamo fatto un grande primo tempo, se fosse finita 3-1 non ci sarebbe stato niente da dire. Il secondo tempo loro si sono chiusi tutti dietro, è sempre difficile fare gol a una squadra che si chiude la prima metà campo, non trovavamo spazi, però ci abbiamo creduto, ripartiamo dalla prestazione, poi è stato un risultato positivo, un punto, però abbiamo perso due punti. È una buona squadra, è una squadra molto fisica che fa della corsa la sua forza, ho visto che ha giocatori che corrono tanto, prestano alti e noi ci stiamo allenando per farci trovare al meglio, affrontare questa gara. Andremo lì a giocarci, l'avviso aperto e cercare di vincere la partita. No, calcoli non ne facciamo, per noi ora sono nove finali, ce la giochiamo con tutti, partita dopo partita e pensiamo una partita alla volta. Ma a livello personale, sinceramente, vorrei fare più gol dell'anno scorso, ancora ci credo. I bianconeri restano in attesa di conoscere la location dell'incontro, data la particolare situazione del Lorenz Onno è chiuso al pubblico negli ultimi due match, a causa della vicinanza di alcuni lavori pubblici contro i rendesi non sarà in panchina torrente. Squalificato si va verso la conferma dell'assetto visto contro la Paganese una settimana fa. Intanto il club del presidente Leonardo riceve un altro riconoscimento per il lavoro sul settore giovanile. Francesco Diara, centrocampista della Berretti allenata da Alderisi, parteciperà alla prossima edizione del torneo di Viareggio in programma dall'11 al 27 marzo aggregandosi alla compagine statunitense dell'Euro New York inserita nelle girone con Venezia, Nania e Parma.